Ciao a tutti, sono Emanuella Gitto, responsabile dell'area internazionale di Azione Cattolica italiana. Lo avete fatto a me. Pronunciare queste parole mi ricorda che l'Azione Cattolica vuole considerare nessun luogo come lontano e questo è qualcosa che viviamo già con la vicinanza al Forum Internazionale di Azione Cattolica, per cui ci sentiamo veramente a casa in ogni parte del mondo. Pensare internazionale quest'anno e anche per gli anni che verranno deve volessere per le diocesi un'opportunità, un'opportunità per crescere, per avestirsi e questo è evidente nelle tante esperienze di gemellaggio e di scambi che le diocesi già vivono quotidianamente. Allora un saluto, un abbraccio extra large per questo anno associativo che inizia. Buon cammino a tutti!